Presentato questa mattina il convegno ecclesiale dal titolo Lavoro e sviluppo umano, il lavoro cambia e ci cambia. Il convegno ecclesiale promosso dal vescovo Monsignor Francesco Beschi, sollecitato dalle riflessioni della lettera aperta scritta da Acli e Cisle provinciali sul tema del lavoro, vuole coinvolgere gli attori sociali, politici, le parrocchie, la comunità intera a leggere la prospettiva educativa del lavoro che merita un approfondimento in società evolute dove i diritti fondamentali non dovrebbero essere messi in discussione. Il convegno si propone di alimentare la presa di coscienza di ciò che il lavoro rappresenta nella vita della persona umana ed è la conseguenza che questo comporta in direzione dello sviluppo economico-sociale, scrive il vescovo nella lettera di risposta a tutta la comunità. Il progetto del convegno ecclesiale è suddiviso in due momenti. Il primo riguarda gli incontri preparatori territoriali di maggio, otto incontri territoriali che si svolgeranno dal 9 al 30 in otto località differenti delle territori bergamasco per coinvolgerne capillarmente il mondo imprenditoriale, sociale e amministrativo. Nella nostra zona sono previsti tre incontri, il 23 maggio a Clusone, l'Oratorio, il 25 ad Albino, presso il Cineteatro, il 30 a Vilminore, presso la sede della comunità montana. A giugno invece il convegno preseduto da Monsignor Gervasoni avrà per relatori professori universitari e diversi soggetti che vivono la realtà del lavoro sotto il profilo educativo, sindacale, sociale ed economico. Venerdì 10 il convegno sarà diviso in tre sessioni lavorative e declinate in interventi, dibattito e tavole rotonde. Mentre invece sabato 10 si svolgerà la seduta plenaria.